ciao a tutti vorrei parlarvi oggi di questa bellissima radio cupola questa radio è inglese creata dalla marconi la marconi uscì dall'italia per motivi di brevetti e cominciò a brevettare le sue radio in inghilterra in francia questo è di produzione inglese e del 1933 aveva tre valvole il modello è marconi phone 283 aveva due gambe d'onda onde medie e onde lunghe questa in particolare è tenuta abbastanza bene io non le ho fatto niente ma se li sarebbero delle viti da sostituire è una mancatura però è completa e funzionante l'unica cosa è che questa radio adesso aperte dietro per farvi vedere funziona a batterie questo era l'alloggiamento per la batteria secco che andava collegati con questi pin lo chassis è un po' arrugginito ma io l'ho lasciato così perché a parte che è funzionante è comunque da tenere più originale possibile all'interno ho trovato queste due etichette staccate che probabilmente erano attaccate qua con questa dice di collegare attentamente i pin nel corretto modo e questa dice che ci vanno su valvole sono originali marconi valve e sono queste tre valvole qua quindi funzionamento con batteria secco all'interno del pannello posteriore troviamo anche il modo di collegarmi nella batteria questa radio era nella collezione di tonino fabbri purtroppo deceduto un amico di famiglia ed era qui del paese dove abito io il valore attuale di questa radio è medio alto anche considerando che è di produzione inglese quindi marconi phone 283 radio cupola e legno prodotta in inghilterra nel 1933 a rivederci alla prossima radio